Intorno alla metà dei caduti toscani rappresagli sono caduti nella provincia d'Arezzo, da Vallucciole a San Polo a Civitella, a Cavriglia, a Castelnuovo dei Sabbioni. Quindi è una realtà che ha pagato un caro prezzo alla resistenza, alla lotta contro il fascismo, contro il nazismo. Non è un caso che nell'84 la provincia d'Arezzo fu declarata con medaglia d'oro al valore militare per attività partigiana. La guerra fa schifo ed il fascismo pure. Questo è il messaggio che l'Arce di Arezzo ha voluto lanciare in occasione del 77esimo anniversario dalla liberazione dal nazifascismo. Un messaggio chiaro ed inequivocabile legato anche al delicato momento storico che stiamo attraversando. Il 25 aprile per l'Italia significò la liberazione dal nazismo, dal fascismo ma anche la fine della guerra. Io penso che il miglior auspicio che vogliamo fare oggi è che finiscano le 35 guerre che ci sono in questo momento in tutto il mondo, a cominciare da quella che abbiamo in casa in Europa, quella dell'invasione dell'Ucraina. Un giorno di celebrazioni ma anche un evento popolare al parco di Villa Severi. Oggi è un giorno di festa, è un giorno che deve restare punto importante nella nostra memoria, per ricordarci che solo resistendo alla sopravvazione, alle prepotenze, alla violenza, riusciamo a rimanere fedeli e liberi nei nostri paesi. A concludere la giornata, un percorso dedicato al 25 aprile attraverso le immagini di un Arezzo bombardata e della storia di alcuni monumenti del territorio comunale che ricordano gli eccidi nazisti ed alcuni eroi della resistenza aretina. Un viaggio veramente nella memoria. Oltre a questo ci saranno anche delle immagini della città bombardata, quindi vedremo proprio le ferite che purtroppo la guerra hanno causato ad Arezzo. Ovviamente la parte monumentale è sfigurata, mi viene in mente i palazzi di fronte alla pieve, mi viene in mente via Bicchieraia, mi viene in mente l'ex convento di San Bernardo dove oggi è il museo archeologico, la badia. Le vediamo veramente ridotte in macerie e fa veramente male. Anche se oggi le rivediamo ricostruite e ne godiamo, vedere come erano state ridotte fa veramente male.